Siamo qui a Medea in questa manifestazione importante che parla di friulani famosi nel mondo e qui chiediamo al sindaco Igor Godeas di parlare di questo prodotto della ribolla friulana che come i personaggi famosi è anche un prodotto famoso del Friuli. Il vino è sicuramente il miglior biglietto da visita per il nostro territorio. Capire questo vuol dire già fare molto verso il marketing, verso quello che è la conoscenza del nostro territorio anche in zone lontane, quindi portare i turisti e fargli capire che abbiamo il vino ma abbiamo anche tante altre cose sulle quali poter investire per attirarli e per poter farci conoscere anche lontano da qua. Naturalmente anche il vino come tanti altri prodotti in queste località piccole ma fantastiche del Friuli deve veramente diventare un biglietto da visita come lo è già adesso e naturalmente come in questo bel ambiente qualità, tutela, protezione e promozione soprattutto del territorio sia per il vino ma anche per il territorio Friuli naturalmente. La professione di imprenditore agricolo è cambiata notevolmente, gli imprenditori hanno capito che bisogna investire sul marketing e investire sull'immagine. Qui siamo proprio in un posto dove questi concetti sono ben chiari, quindi prodotto buono ma anche immagine.